Non esiste, perché io non ho bisogno, né dei soldi, né di niente comunque, sono figlio di contadini e ne sono orgoglioso, quindi se io ho dei soldi, mi mandai alla moneta sofferente, non mi mando come dicono solo ai carcerati, potete vedere nei carceri, faccio i vagli tutti i giorni, ho delle bambine, ai bambini, forse perché ho bisogno di affetto, non lo so. Cutolo era un uomo, era, ma quando io lo conobbi era un uomo che aveva un suo fascino sinistro, ma aveva un suo fascino. Il mio primo ed unico incontro con lui iniziò con un fender de non resevoir da parte sua, mi disse ho ricevuto una lettera da un mio associato che mi dice che voi siete un fetente e che con voi è meglio non parlare. Ed io stavo riprendendo le mie carte per andarmene, quando lui dice però se vuole restare come opera caritativa vi faccio vedere la mia produzione letteraria. E io dissi vabbè, sono qua, non perdo niente. Iniziamo a parlare, uscì dal carcere a mezzanotte con 18 pagine di verbale. Si chiama Dottaviano e questo è il castello Mediceo. Questo è stato il quartier generale di Cutolo della sua famiglia, dei Cutoliani. Per la verità Don Raffaele qui ha vissuto soltanto pochi mesi, invece c'è stata per tanto tempo la sorella Rosetta. E qui era un continuo via vai di persone e anche di politici che venivano a chiedere i voti. Don Raffaele era fatto così. Gli piaceva ostentare il suo potere e la sua ricchezza. Uno come lui non era tipo che potesse vivere in una casa normale, per quanto comoda e magari con i rubinetti d'oro. No, per Don Raffaele Cutolo, o professore, il fondatore della NCO, la nuova camorra organizzata, da 50 anni seppellito nelle patrie galere, ci voleva qualcosa di più grande e di più sontuoso. Un castello. Che poi questo castello, a volerla dire tutta, rappresentava la sua rivalsa sociale. La sua rivincita sulla vita, che lo aveva visto nascere figlio di un umile agricoltore di Ottaviano, che proprio ai piedi di quel castello coltivava un pezzetto di terra, agli albori dell'immediato dopoguerra. E Raffaele accompagnava il padre e guardava il castello, maestoso e irraggiungibile, e quella castellana che si atteggiava a padrona del vapore. Lo voleva quel castello e quando divenne potente lo comprò, per 280 milioni di lire nel 1980, più o meno un terzo del valore reale dell'intera tenuta. In buona sostanza, Raffaele Cutolo fece una di quelle proposte che non si possono rifiutare all'ultima proprietaria, la nobile donna Maria Capece Minuto, e coronò così il suo sogno da ragazzo. Dalle falde della bocca più antica del Vesuvio, Don Raffaele sognava di conquistare non solo Napoli, ma tutta la Campania. La nascita della sua organizzazione, la NCO, segnerà in modo indelebile la storia moderna della Camorra. E non certo in me. La nuova Camorra organizzata, che ha la grande responsabilità di essere stato il tarlo, che ha veramente inquinato nei decenni successivi quella che è stata la vita di una regione, nasce, si costituisce, oltre che nella contrapposizione ai siciliani, proprio nella pretesa di ottenere una tangente sulle casse di sigarette che i siciliani scaricavano nella zona di San Giovanni a Teduccio. Dall'avvento di Cutolo a metà degli anni 70 fino ai primi anni 80, a Napoli e provincia, ma in tutta la Campania, si conteranno più di 800 morti ammazzati nella guerra tra cutoliani ed esponenti della nuova famiglia. Un cartello di clan camorristi, storici, appoggiati da Cosa Nostra siciliana, che si opponeva alle mire espansionistiche del professore. Ci fu un anno nell'82 dove si superarono i 250 morti, dovuti alla faida tra Cutolo e alla nuova famiglia, insomma. A Ottaviano però ci fu una grossa parte, penso che siamo sull'ordine di una quarantina. Però i clan erano... Con Salvatore gli alberi che aggnerano, i fruttessi sono fracetati... Caddero in tanti ad Ottaviano, compresi i parenti del bus. In questa piazza si è conclusa l'epopea dei cutoliani. In questo posto dove adesso c'è la macelleria, prima c'era una sala da barba e qui dentro venne ucciso Salvatore Iacone. Chi era Salvatore Iacone? Era il suocero di Raffaele Cutolo. Lo uccisero proprio mentre si stava facendo fare la barba. Ma la grande ferita di Cutolo Uomo fu l'uccisione del suo primo genito Roberto, raggiunto e ucciso davanti ad un bar di tradate vicino a Varese con dieci colpi di pistola da killer calabresi su richiesta della nuova famiglia, gli avversari di Cutolo. Questo è suo figlio? Sì, mio figlio. Buongiorno. Che cosa, che avvenire augura a suo figlio, signor Cutolo? Che avvenire augura, tutti i padri onesti, comunque. Già lo devono vedere qui dentro, in recente a me. Quando lo uccisero, Roberto aveva 28 anni e 27 mila lire in tasca. Non se la passava bene e voleva dare un taglio al passato e a quel cognome di piombo. I soldi gli rimandava sua madre, la prima moglie di Cutolo, Filomena Ligori. E' stato un sfregio il padre, però hanno colpito a me il padre, perché io me l'ho cresciuto. Io ci mandavo benzina messe per messe. Io ho giù terrato al mio figlio, per questo. Un altro colpo per Don Raffaele fu l'eliminazione del suo amico e braccio destro, fidatissimo, Vincenzo Casillo, saltato in aria nella sua macchina nei pressi di Forte Boccea a Roma, a due passi dalla sede dei servizi segreti. Casillo aveva con sé un tesserino dei servizi e aveva partecipato alle trattative per la liberazione dell'assessore regionale Ciro Cirillo e dalla titante entrava e usciva tranquillamente dalle carceri italiane. All'esecuzione di Casillo, detto onirone, assistette la sua fidanzata Giovanna Matarazzo, una ballerina di night club conosciuta col nome d'arte di pesca vellutata. La donna, qualche tempo dopo, venne sequestrata, uccisa e fatta a pezzi. Al processo per l'uccisione di Casillo, Don Raffaele, che è imputato, parla così del suo amico. Sì, Presidente, Siderio di Lio sono in carcere da 26 anni. Ultimamente ho preso qualche dieci al gasto, quindi la mia vita deve finire in carcere. Però non desidero pagare, per la morte dell'amico è mio più carico. Ripeto, tutti mi hanno detto che è stato un incidente. Se poi è un omicidio, dovresti domandare a un certo apparato dello Stato che gli ha rilasciato la testa dei servizi segreti, benché la di Dante entrava in tutte le carceri italiane. Però tutti mi hanno detto che è stato un incidente. Allora, il nome del popolo italiano, la Corte d'Assisi di Roma, visto l'articolo 479 del Codice di Procedura Penale, assolve Cutolo Raffaele, Cutolo Rosette e Puga Giuseppe dall'imputazione loro a scritta per non aver commesso il fatto. L'udienza è tolta. Avvocato, comunque, è una grande, grande, grazie a voi. A voi, grazie veramente. Grazie a voi, state benvenuti. La ringrazio, la ringrazio a tutti. La ringrazio, grazie. Avvocato, grande battaglia. Ha diventato partito. Partito era concitivo. È la verità, comunque. È stato un grande contributo, veramente. Avvocato, poi c'è... Caddero in tanti ad Ottaviano camorristi e uomini delle istituzioni come due onesti e battaglieri consiglieri comunali Pasquale Cappuccio socialista ucciso nel 1978 e Mimmo Beneventano assassinato da anni più tardi davanti casa. Io fui svegliata dalle grida di mia madre perché stavo dormendo e scesi qua e trovai il corpo di mio fratello che per me era una roccia per terra. Gli allentai la cravanta pensando che non riuscisse a respirare ma non c'era più niente da fare. Lui venne ucciso, morì qui su questa strada. Sia Pasquale che Mimmo si opponevano in consiglio comunale e nelle piazze alla speculazione edilizia che la camorra cutoliana si apprestava a compiere in quella zona attorno al castello, in quello che oggi si chiama Parco del Vesuvio. Allora si voleva costruire dei centri residenziali, si parlava di centri sportivi e così via, questi territori e poi questi terreni che poi in realtà circondavano quello che era il castello comprato da Cutolo. Oggi il castello Medicio è tornato al comune amministrato da un sindaco avvocato penalista che ha reso fruibile a tutti questi spazi di bellezza. Ma per anni, come in una favola nera, il castello ha rappresentato il simbolo del potere camorrista. Adesso con queste chiavi vi porto in un altro luogo particolare. Queste erano le scuderie del palazzo nobiliare, vediamo se riusciamo ad aprirlo perché non è semplicissimo. Eccoci, in queste che erano appunto, come vi dicevo, le scuderie, qui aspettavano le persone che dovevano parlare con Don Raffaele, ma erano decine, centinaia ogni giorno e per ognuno di loro Don Raffaele aveva o una buona parola, o un posto di lavoro, o la 50.000 lire come si diceva all'epoca. Ecco qua, aspettavano e poi venivano chiamati e arrivavano al cospetto di Don Raffaele, ma molto più spesso di sua sorella Rosetta. E mio fratello ha già seguito da 20 anni e sto sempre dietro mio fratello. Mio fratello è abituato a fare sempre delle cose belle e tutt'ora fa cose belle. Lei mi diceva se uno deve chiedere un piacere a suo fratello? Chiede a mio fratello e mio fratello giustamente si rivolge a chi, insomma, fa un piacere. Ma la stessa cosa, ha aiuto a una signora che si aveva posto per un marito e mio fratello ha scritto a persone incaricate e ha fatto avere posto, insomma. Oggi Ottaviano è una cittadina come tante, dove il potere che un tempo furito Raffaele è passato nelle mani di altri. E la musica è sempre la stessa. I soldi si fanno controllando le piazze di spaccio e con il vecchio, caro e mai ripudiato Calcestruzzo. Oggi, soprattutto i Fabrocino, hanno subito già rivesto operazione, proprio perché imponevano alle ditte del territorio, anche oltre i confini della provincia di Napoli, un calcestruzzo creato da aziende loro in cui avevano ripulito soldi e che ovviamente non poteva essere di ottima fattura, anche perché veniva ad un prezzo bassissimo rispetto alla concorrenza. L'ultima boccata di libertà, utilizzando il falso nome di Prisco Califano, era durata appena un anno dall'evasione dal manicomio criminale di Aversa nel 1978, con i picciotti che usarono la nitroglicerina per aprire una breccia nelle mura dell'istituto e liberare il loro boss, fino all'arresto nel 1979 nei pressi di Salerno. Ma la carcerazione non l'ha piegato. Non so come abbia fatto e tuttora abbia la forza per resistere ad un isolamento che perdura da 35 anni. Cioè lui da 35 anni non vede nessuno in carcere, solo le guardie carcerali. Isolamento totale. La polizia penitenziaria. Lei pensi che quando io andavo a trovarlo a Belluno, mi si chiedeva di andare di domenica, proprio perché nel tragitto dalla cella alla sala colloqui non incontrasse nessuno. Invece durante la settimana magari poteva incrociare uno sguardo con qualcuno. Totale isolamento, totale isolamento. Dal 1982. Quanti ergastoli è stato condannato? 14 se non ricordo male. 14 ergastoli? 14 ergastoli. Un record man, credo. Quasi come Totò Rina, più o meno siamo lì. Credo di sì, ma ci tengo anche a precisare che in decine e decine di processi è stato assolto. Sì, certo. Il carcere è stato il suo regno negli anni Ottanta. In carcere fondò la nuova camorra organizzata, affidiando i detenuti. Dal carcere ordinò delitti e vendette e gestì gli affari miliardari del terremoto in Irpinia. In carcere decideva chi doveva essere il sindaco di Ottaviano e invece fece uccidere quello di Pagani, Marcello Torre, dando seguito alla stagione dei delitti politici che era stata inaugurata a Palermo con l'omicidio di Persanti Mattarella. A me non è stato mai camorra, a me è un ideale di vita, ripeto. Poi la camorra, l'antranca della mafia e tutta un'altra cosa. Ma la mafia sta a Roma, la camorra sta a Roma, la vera camorra sta a Roma. In carcere sposò l'attuale moglie, immacolata Iacone. In carcere ha concepito tramite il prelievo del liquido seminale la sua secondogenita. Non fu semplice, infatti l'autorizzazione al prelievo comportò l'autorizzazione all'ingresso in carcere di un chirurgo, di un urologo, di un personale medico che io accompagnai al carcere di Belluno. E poi questo personale, autorizzato dal direttore del carcere, erano tre medici, procedetero al prelievo, così come da autorizzazione. Poi si uscì dal carcere e c'era la signora immacolata che attendeva con delle bombole di idrogeno per congelare il liquido, così come era stato prelevato, bombole di idrogeno che per ovvi motivi di sicurezza non potevano fare ingresso all'interno del carcere. E' una cosa bellissima, per una donna avere un figlio è una cosa stupenda e anche per chi no avere il mio marito vicino. E sempre in carcere, don Raffaele ricevette la visita dello Stato. Era l'aprile del 1981 e uomini dei servizi segreti e politici varcarono il portone del carcere di Ascoli Piceno per chiedergli un favore, ad operarsi per ottenere la liberazione dell'assessore democristiano Ciro Cirillo, che era stato sequestrato dalle Brigate Rosse a Torre del Greco. Cirillo venne liberato dietro il pagamento di un riscatto, ma Cutolo non ottenne le contropartite che si attendeva. Anzi, per tutta risposta, lo Stato lo spedì nel supercarcere della Sinara, che venne riaperto per lui e dove rimase a lungo l'unico detenuto. Però gli uomini come me sono condannati a non cambiare comunque, perché mi tengono sempre in questi punti. Sono l'unico detenuto in Italia. Non da diretti il 41b, Stato, vanno lo stesso a passeggi con Magni. Io sono totalmente isolato dal 19 febbraio del 1982. Da quel momento il silenzio ha parlato per lui. 50 anni di carcere senza mai dire una parola significativa. Un sussulto ogni tanto che assomiglia tanto ad un divertimento. Se parlassi io cadrebbe l'attuale Parlamento. Potrei dire delle cose sul sequestro e l'uccisione di Aldo Moro, ha detto ultimamente. Dichiarazioni già rese alcuni anni fa al PM, oggi sostituto procuratore generale, Otello Lupacchini. Cutolo sosteneva di essere stato incaricato dalla democrazia cristiana tramite un suo avvocato di individuare la prigione di Moro. La prigione venne individuata e chi di dovere venne informato di dove potesse essere la prigione di Moro, intendendosi per tale il covo di via Montalcini. Dopodiché però, data questa notizia, raccontò Cutolo e nessuno mi disse più nulla, Anzi, un mio associato, in questo caso si trattava di Casillo, mi disse Don Raffaele, meglio che ne stiamo fuori da questa vicenda perché è molto pericolosa e liberare Moro non interessa a nessuno. Ogni volta si ha la sensazione che Don Raffaele giochi come il gatto con il topo, ma che in realtà non abbia alcuna intenzione di pentirsi. Arrivare a questo punto non si pentirà più, non penso che ne abbia alcuna intenzione di farlo. È legato purtroppo a quel vecchio stile camorristico dove il pentimento era un disonore enorme. Coloro che intendono collaborare con la giustizia e ne hanno ovviamente ampia facoltà, lo fanno perché intendono patteggiare con lo Stato. La prigione ha benefici penitenziali enormi. Cutolo non ha mai scelto questa strada, non ha scelto mai la strada del compromesso. La prigione ha cambiato qualcosa in lei? Io sono sempre lo stesso, sono sempre le stesse idee. Semmai io devo dire che se fosse in Italia si stava meglio quando si stava peggio. Ma di certo Cutolo di cose ne sa tante e le sue dichiarazioni potrebbero ancora far paura a qualcuno. Non so se ci siano molti che possano ancora aver paura di quello che lui sia in grado o possa ancora raccontare. Indubbiamente a mio avviso se ce ne fossero ancora rischierebbe molto con queste dichiarazioni se effettivamente avesse qualcosa da raccontare ancora. Ma Don Raffaele fu anche il primo a sperimentare il fascino che la camorra e i suoi riti esercitano sui giovani e sui giovanissimi. Ne affidò tantissimi e ne morirono tantissimi. Altrettanti vennero arrestati. E verrebbe da dire che la storia si ripete. Se 40 anni dopo troviamo ancora giovanissimi a fronteggiarsi per le strade di alcune zone di Napoli con le armi in pugno. Da vicoli come questo nel cuore di Forcella, uno dei quartieri difficili di Napoli, partono le cosiddette paranze, queste bande di ragazzini che sparano per strada. I ragazzini sono sempre stati attratti dalla camorra fin dai tempi di Cutolo e dei suoi avversari. E ne morirono tanti anche negli anni 80 e negli anni 90. Il questore della città, Guido Marino, è uno sbirro di grande esperienza e coordina una squadra, dalle volanti alla mobile, estremamente affiatata e composta da ottimi professionisti. Marino per i suoi trascorsi conosce bene la mafia e i mafiosi. Quello che accade oggi a Napoli, negli anni 80, dice, sarebbe stato impensato. Io mi ricordo un mafioso che abbia fatto lo sceriffo in mezzo alla strada per terrorizzare la gente o per marcare il territorio o per imporre la sua legge, col risultato di attirare in quel territorio più polizie, più carabinieri, da ultimo più soldati e quindi con qualche difficoltà in più a muoversi. Fino a qualche anno fa noi siamo stati abituati a confrontarci con una camorra che aveva il senso delle cose. Cioè, sapeva che alzare la tensione, il livello di violenza per le strade determinava delle conseguenze. Una reazione dello Stato. Certamente. E quindi era in grado di riflettere e di astenersi dal commetterlo. Oggi tutta questa capacità di riflessione è venuta completamente meno. E ci troviamo di fronte a soggetti che sono imprevedibili, caratterizzati da una straordinaria violenza e quindi particolarmente pericolosi per la collettività. Sono sganciate dalle connessioni politiche, non c'è alcun rapporto. Però questi ragazzi hanno un grande target di riferimento, diverso dalla politica, che a mio giudizio è quello decisivo. Più della politica, è il mondo imprenditoriale. E il mondo imprenditoriale, quando questi ragazzi vanno a chiedere il pizzo, in quel momento ricevono la legittimazione dell'operatore economico, la legittimazione del commerciante, la legittimazione dell'imprenditore. In quel momento dell'acquiescenza dell'operatore economico, il loro radicamento diventa una realtà. E non sono più gang, ma sono clan. Ragazzini in azione non solo nelle strade di Napoli. Qui siamo ad Agerra, in piazza Falcone e Borsellino. E questa è la scuola media Gaetano Caporale. Qui pochi giorni fa, non più di una settimana fa, due ragazzi a bordo di un motorino, con i mitra in pugno, hanno seminato il terrore davanti alla scuola. Forse cercavano di entrare per sequestrare la figlia di un boss che avevano tentato di uccidere, non c'erano riusciti. Fatto sta che i genitori e alunni sono rimasti a lungo barricati qua dentro. I nostri collaboratori non volevano farci uscire, per paura. Ma quindi com'erano? Le motorine provate? Sì, con i mitra e il passamontagna. Con i mitra e il passamontagna? Sì. Erano con i mitra e con il costo. Quanti erano? Due. Due sul motorino. Ripeto, per tutti, zona Forcella, zona quartieri, zona Monte Calvare, abbiamo dovuto cercare una Torota IQ, la Torota IQ, non abbiamo il colore, la tarda. A bordo vi dovrebbe essere una donna in stato interessante, ripeto, donne in stato interessante probabilmente a nome di Valentina Giuliano, ripeto, a nome di Valentina Giuliano, appartenente alla famiglia Giuliano di Forcella, la quale trasporta armi da Forcella a zona quartieri per consegnarle successivamente a personaggi malavidosi di Forcella, i quali poi dovrebbero esplodere dei colpi d'arma da fuoco, tratto intimidatorio, nota per tutti. Camici bianchi, silenzio e concentrazione. Ecco la centrale operativa della Polizia di Stato a Napoli. La segnalazione che avete appena sentito riguarda una donna esponente del clan Giuliano di Forcella, che starebbe trasportando delle armi verso i quartieri spagnoli, probabilmente per una rappresaglia. Michele Spina, capo delle volanti, per anni commissario a Secondigliano e a Scampia, ci dice che la segnalazione dell'auto è arrivata con una telefonata anonima e come tale va presa con le pinze. Andiamo a Forcella per capirne di più. Sì, ho ricevuto. Ma com'è quella situazione, interrogativo? Positiva? Doc, siamo andati in accertamento. E poi c'è accertamento qua. Ora, noi stiamo andando a Forcella a controllare quella situazione che abbiamo sentito giusto in sala operativa. Sì, esatto. Che mi sembra abbastanza un allarme, insomma, perché se c'è una macchina con... Sì, ma spesso vengono fatte comunicazioni anonime di questo tipo, che vanno tutte verificate, ma non necessariamente sono poi veritiere. Ciao, ciao. Come va? Abbiamo diramato le ricerche, le pattuglie hanno cercato. Ci sono anche dei pochi... Stanno ancora cercando. Stanno ancora cercando, ma fino ad ora non c'è traccia di questa macchina. Non è successo, non l'abbiamo trovata. La segnalazione era verissima. L'auto viene ritrovata due giorni dopo, con diversi colpi di pistola sulla carrozzeria. Ma chi sono questi giovani protagonisti di paranza estese? Come vengono definiti questi raid a mano armata? Quattro imbecilli, incapaci anche di dire il proprio nome e cognome. Questo è il punto. Sì, perché poi quando ce li avete davanti vi rendete conto che sono oggettivamente niente. Sono decerebrati, completamente. Quanto la droga incide in questo? Parecchio, parecchio incide la droga e chiaramente incide poi un sistema normativo che francamente meriterebbe qualche riflessione approfondita. C'è la solita storia, voi li mettete in carcere e dopo due settimane, dopo due giorni sono fuori. Ma nel caso di minorenni avviene anche di peggio, perché abbiamo a che fare con un sistema normativo che tutela, secondo me, anche in misura eccessiva, il minorenne. E fin lì ci può anche stare. Ma libera da ogni responsabilità, proprio svincola da ogni onere, il genitore di quel minorenne. Cioè non gli chiede conto e ragione di nulla. Quindi che facciamo? Li togliamo questi ragazzini ai genitori o costingiamo i genitori a occuparsene? Ma come? Gli abbiamo gli strumenti legislativi per fare questo? Dal mio punto di vista, al genitore che è manifestamente incapace o indegno di fare il genitore, il figlio va tolto, secondo me. Io riesco ad andare avanti proprio perché non mi porto nessun senso di colpa, perché i miei figli li adorano e li ho sempre guidati nella via giusta. Se un ragazzo non va a scuola, quindi verrà denunciato, no? Se il papà non sta in grado di... Quindi ci sono competenze altrove come l'assistenza sociale, altre situazioni, no? Lui è uno degli ultimi venditori di sigarette per strada. Si chiama Salvatore e mi ricorda che ci siamo conosciuti oltre 20 anni fa in casa di Loigino Giuliano durante un'intervista all'allora boss di Forcella. Lui all'epoca era poco più che un bambino, come quelli che oggi sparano per le strade. Ma lui non ha mai ucciso, ha commesso altri reati ed ha pagato il suo debito con la giustizia con 14 anni di galera. Sulla questione figli risponde come non ti aspetti. Come io sono mio padre per esempio con i miei figli, per me anche i genitori sono fatti così, perché si vede che il mio figlio una mattina che scena e porta 1.000 euro a casa, io dico vicino al mio figlio dove l'hai visto questa 1.000 euro? Certo. Se il mio figlio però è vero che non dico niente, domani porto 2.000 euro. Il mio figlio è un quanto è sciotto. Certo, quindi dici tu dipende molto dai genitori, dalle famiglie. Sì, perché se il mio figlio va a fare una cosa, io lo vengo a salire il mio figlio. Certo. E c'è il mio figlio come faccia, ti viene a ritirare di dire, perché lui non deve soffrire come ho sofferto io. Intervenire sull'aspetto delicatissimo della patria potestà rischierebbe addirittura di essere un boomerang. Ci ha insegnato Sciascia, e per fortuna che ce lo ha insegnato, che la mafia si vince sul terreno del diritto. Bisogna opporre la forza del diritto. Tu non puoi guai se dai la sensazione di essere come loro. Se dai questa sensazione, alimenti il consenso sociale della mafia. Cerchiamo di metterli però in condizione di andarci a scuola e non dover lavorare per doversi mantenere, a non dover vivere in un quartiere che scuola non ne ha, a non dover fare molti chilometri per andare a scuola, a non andare in scuole fatiscenti, con un'edilizia scolastica che ha i minimi storici. Cerchiamo di intervenire su questo e secondo me sarà l'ora che la città potrà mettersi al pari dell'altra parte della città che invece registra un boom turistico straordinario, che invece registra il massimo delle presenze dall'estero in ogni festività, perché anche questo esiste. Tutto vero, ma è altrettanto vero che la collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine è spesso deficitaria. In un caso di omicidio il primo sforzo investigativo è finalizzato ad individuare un testimone, non l'autore dell'omicidio. E tutto questo è deprimente. Ma lo spieghiamo perché vuol dire, non c'è mai un testimone, uno che dica semplicemente erano in due ore ne in tre. Esattamente, esattamente questo. Cioè a dire, stiamo parlando dell'inizio di un'indagine. Cioè erano in moto piuttosto che erano in macchina, erano in due piuttosto che erano in tre. Questo tipo di contributo, che mi sembra davvero il minimo sindacale da parte di un cittadino che pretende di essere tale, insomma io credo che bisognerebbe aspettarselo da una città che ha ampiamente dimostrato di avere mille risorse e di non avere come uno che obbliggetto la visita di questi quattro rifiuti umani che vanno sparando. Ci sono alcuni fatti più gravi su cui non si transige. Là è giusto denunciare assolutamente, dipendentemente dal contesto. Tu denunceresti? Personalmente sì, io penso che denuncerei, però non mi sono mai trovato in una situazione del genere. Quindi adesso magari posso dire di sì, poi trovandomi ci potrei cambiare opinione. Però sì, comunque penso denuncerei. Io sostengo che l'avversione in un certo senso viscerale che c'è in ampi settori della città, non necessariamente settori camoristici, anche di settori indifferenti, di persone per bene, nei confronti delle forze dell'ordine costituisca una vera e propria patologia. Eh, non vuoi il bambacista! Ti vuoi il bambacista! Fabià! Fabi! Fabi! Ti basta! Quindi noi rappresentiamo Napoli in un certo modo, però poi la gente continua a venire, continua a venire a visitare questa città, ad apprezzarne le bellezze, la cultura. È una contraddizione. O sono tutti pazzi, autovisionisti, che vanno incontro a morte certa per rapine, scippi, ferimenti o cose del genere, oppure vedono qualcosa che i media spesso volentieri non vogliono far vedere. Siamo davanti al Consiglio regionale della Campania e come vedete la facciata principale del palazzo ma anche quelle laterali sono costellate di fotografie delle vittime innocenti della Camorra. sono decine e decine e anche nell'anno appena trascorso, nel 2015, sono morti dei giovanissimi. Tutto questo viene fatto per non dimenticare. E' stato ucciso per sbaglio, per una pallotto lavacante, per questi raid che non si sanno cosa vogliono, questi sciacalli, vogliono intimorire i quartieri, vogliono intimorire la città. Non si può perdere un figlio per rimanere un'ora in più in piazza. Antonio Cesarano è il papà di Gennaro, detto Genni, 17 anni e tutta la vita davanti. L'hanno ucciso in Piazza della Sanità il 6 settembre dello scorso anno. Colpito da pallotto le esplose da quelle che vengono chiamate le stese, gruppi di giovani che a bordo di grossi scooter sparano all'impazzata per affermare la propria supremazia criminale in questo o in quel quartiere. L'unica colpa di Genni è stata quella di essersi attardato in una calda serata di settembre a chiacchierare con gli amici nella panchina di fronte a casa. Non lo voglio accettare, pure questo posto per me è un ricordo tremendo perché mio figlio si è cresciuto in piazza, stava a 100 metri di casa mia. Non faceva parte dei minori a rischio, quasi parlavo che mio figlio andava a scuola, era un ragazzo seguito. Noi non ci diamo pace, noi abbiamo perso tutta la nostra vita, non una metà, tutta la nostra vita. Genni è stato ucciso in settembre ed era una promessa del calcio. Come Davide Bifocco, ucciso anche lui a settembre, ma dell'anno precedente. da un colpo esploso dalla pistola d'ordinanza di un carabiniere al termine di un inseguimento. Sono uscito con i documenti, sono andato sul posto e ho trovato mio figlio a terra morto. E un carabiniere mi diceva che l'avete fatto? Perché poi mi sono ginocchiato e mi scuola, Davide, Davide, però ho capito subito tutto. Al militare, la procura di Napoli ha contestato l'omicidio colposo. Il processo si è concluso 48 ore fa ed ha visto la condanna a 4 anni e 4 mesi del carabiniere che ha ucciso Davide. Non si tratta del massimo della pena per questo tipo di reato. Per i genitori di Davide si trattò di una vera e propria esecuzione. Se tu gatti da un motorino la prima cosa che fai è che fai istintivamente. Cerchi di scegliere di alzare per vedere che ti faccio. Allora il bambino stava così, vedi? Quando si è alzato stava così, così, in questa posizione. Quando ha fatto così, evidentemente i genocchi che ci facevano non volevo i sacchi, così è rimasto. Una botta a capo. Ma che ha fatto di male? C'è, questi blocchi, inciampati e rullati tanto sui motori. Cioè, i miei figli non guidavano i motori. Non era il suo, stava in mezzo come dicevano in via radio e qua, in mezzo. Quello ammazzato... Non è in tre sul motoro. Comunque ammazzato quello di mezzo che era mio figlio. il dolore identico di queste due famiglie ha prodotto frutti isperati con la nascita di due associazioni per volere dei genitori. Il popolo in cammino alla sanità e Davide vive a Soccavo ai campi fregrei. Noi abbiamo un obiettivo e questo di fare interrogare ai ragazzi piccolini nel senso io non ho avuto questa possibilità e forse ho fatto qualche piccolo errore perché nessuno mi ha steso la mano a dire questa è la strada giusta perché c'era tanta precarietà tanta cosa la famiglia volevo studiare non ho avuto possibilità perché mio padre non mi poteva mantenere agli studi e né tanto meno ho avuto qualcuno come associazione che stavano a ridosso a dare una mano ai giovani. Io sarò in primo piano per dire basta e fa sì che questo martirio poi serva e serve soprattutto per chi rimane perché i tre punti che ci diamo su questa pertenza è di scuole aperte sicurezza di telecamere si chiedono cose sociali perché questi quartieri hanno bisogno un po' di più di attenzione lo Stato deve investire su questi posti Io non sono uno di quelli che quando viene ammazzato un appartenente a un clan dice vabbè si ammazzano fra di loro questa è una cosa terribile quindi io non faccio distinzioni tra morti interni e morti esterni tra morti innocenti e morti colpevoli una morte è una morte è comunque una ferita sociale di cui dobbiamo assumerci tutte le responsabilità 30 giorni in giro per Napoli la città mondo per dirla con De Giovanni una città con mille facce come è noto e come vuole lo stereotipo una città dove si spara ma dove ci si aggrega per trasformare quegli spari in musica Io penso che la cultura debba essere il rimedio debba essere la nostra arma a differenza degli spari e delle pistole la nostra arma deve essere la cultura per difenderci da chi ci vuole opprimere e da chi appunto cerca di non farci credere nei nostri sogni dobbiamo crederci perché è veramente l'unico modo per poterci realizzare personalmente questa è una cosa molto brutta che sparano a 16 anni all'età mia loro sparano io sparo musica quindi siamo due luci proprio differenti associazionismo e volontariato con le catacombe di San Gennaro gestite da un gruppo di giovani del quartiere sanità bravissimi e poliglotta è difficile però poi pensi che non si spara solo alla sanità si spara in tutto il mondo in altri quartieri ci saranno giovani che vivono queste stesse difficoltà noi però siamo ancora più fortunati perché oltre alle difficoltà che viviamo quotidianamente per noi c'è un'alternativa c'è una cultura c'è una storia che possiamo valorizzare di cui ci possiamo riappropriare e costruire qualcosa sulle nostre radici e le parrocchie guidate da giovani e battaglieri sacerdoti molto spesso dice a questi giovani ma basta smettila con questa vita e loro che gli dicono? e loro mi dicono padre ma il lavoro me lo date voi? ed hanno ragione io credo che qui sul rione la voglia di lavorare non manchi a nessuno il fatto è che tante volte manca lo spazio dove in che modo e soprattutto che cosa fare se ci fosse lavoro forse la percentuale di delinquenza scenderebbe molto e poi ancora i centri sociali fino a questo bijou un piccolo auditorium nel quartiere Marianella a due passi da scampia un luogo intestato al maestro Ciccarelli con il quale cominciò a maneggiare musica e in sua vita qui i ragazzi vengono a studiare a ideare a comporre Enzo è il loro padre spirituale e da raffinato ricercatore di suoni nuovi di contaminazioni di sound mediterraneo li invita a non smettere mai di cercare nuove strade bisogna non perdere di vista questo rapporto tra le nuove generazioni e lo studio noi abbiamo due possibilità per i fuori di vista nelle terre svantaggio hanno due possibilità innanzitutto dedicarsi a qualcosa studiare e credere nei sogni e nelle probabilità altrimenti si prendono le pistole questo posto è interamente autofinanziato da Enzo e da quattro amici mischiare le diversità e farne melodia è la parola d'ordine ma Napoli si sa si mischia tutto a prescindere nel bene e nel male e infatti in questa processione dedicata alla Madonna dell'Arco nel quartiere di San Lorenzo Vicaria accanto alle effigie dei Santi sfilano a pagamento anche i volti in smoking dei cari estinti di rispetto del quartiere da sempre è così è una tradizione ci dicono e noi ci crediamo crediamo soprattutto che per Napoli e per la sua gente sia ancora tempo Ezio si chiama Ezio Ezio finanziario onesto furbo e se decideva di pigliarti ti pigliamo però sempre lealmente sempre leal noi perdevamo e perdevamo lui non riusciva a pigliarti si commentavamo addirittura la sera si commentava no come adesso era bravo come scafista era bravissimo era bravo come scafista e sapeva anche i punti di riferimento nostri sapeva il linguaggio pure che tu parlavi lui sapeva poi capiva il mare se tu era cattiere però era contro l'abbandire hai capito? era contro l'abbandire dell'anima ci veniva a pigliare dei posti a volte mamma abbiamo fatto un casino di inseguimento era sempre fra noi era sempre un fatto lecito se tu vincevi vincevi se tu eri il motoscaffero più veloce di loro scappato agli anni 70 agli anni 80 80 tu il contrabbando era proprio bellissimo ti dico bellissimo poi sono cambiate le cose allora c'erano quindi questi inseguimenti come con le macchine come nei film esatto come nei film ma non vi spaventavate di finire a mare insomma o che sparassero no 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 non sparavo la filanza dove andavate a prendere queste sigarette in Svizzera si compravano in Svizzera andava un emissario nostro incontrava un emissario della multinazionale e si faceva il contratto e ti diceva dove te le devi portare Albania Montenegro tu dicevi dove le volevo e poi loro te le portavano regolarmente tutto scritto cioè con un contratto regolare regolare e poi noi provvedevamo andarcela a prendere le mettevamo su queste famose barche e le portavamo 30 miglia 40 miglia all'epoca ne faceva ne faceva piace perché sai era un lavoro due o tre milioni al mese un paio di milioni al mese due o tre quattro milioni al mese si guadagnava si 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 lì si entrava qua dove sta questo cancello noi entravamo per la spiagetta noi accettavamo e andavamo in questo cancello qua vedi questo cancello passavamo per sotto a questa villa allora noi portavamo le sigarette no no c'era la villa c'era la terra si questa villa di che io la dico non l'ho mai saputa di che non ci ho mai vista nessuno ah ecco non c'era nessuno questo era un altro punto questo era un punto di scarico che succedeva io entravo con la barca qui dentro e mettevo appoggiavo le sigarette qua e le portavamo sotto a quella rotta la che all'interno c'erano delle macchine che li caricavamo e li portavano da questa rotta uscivano a mergellina capito come facevano sotto tutto un tunnel questo è tutto un tunnel che si entra di qua dal cancello dove c'è il cancello e quindi c'erano tutte le macchine in fila che aspettavano il carico di sigarette che noi mettevamo qua 10 minuti caricavano 110 cazzo li mettevano alle macchine e allora uscivano a mergellina quando ero ragazzi i contrabbandieri quelli prima di me erano pescatori pescatori e signori signori a pescatori signori eh signori veramente signori che poi se poi loro si hanno smesso di fare il contrabbande perché è cambiato il contrabbande sono entrati gente non andava bene più i contrabbandieri di quell'epoca là non ci sono stati più gli anni 89 non c'erano più c'era altro tipo di gente giuseppe e pasquale sono due ex contrabbandieri negli anni settanta e fino agli albori degli 80 hanno caricato dalla nave d'appoggio e scaricato a terra milioni di casse di sigarette quante famiglie campavano con con il contrabbando di sigarette 500.000 600.000 famiglie un commercio illegale quello delle bionde che all'inizio fu appannaggio dei pescatori poi la camorra mise i piedi nella cioccolata come dice giuseppe e fu la fine del loro piccolo mondo antico. Cutolo è stato uno di quelli là che ha cominciato a far finire le sigarette. Perché? Perché perché è cominciato che lui sempre infatti quando mette i detti in da circolare voleva la gente sulle sigarette a Napoli. Cioè voleva impossessarsi lui dal contrattamento. Possessarsi della situazione ecco ma già stava quando la vente di Cutoli già stava scemando le sigarette già erano andate su un'altra strada. Ecco Raffaele Cutolo per lei che cos'è? Raffaele Cutolo per me è un uomo serio, semplice, sincero e reale e è molto affezionato a questa terra di Ottaviano perché Ottaviano lui l'ha cresciuto quando ero bambino. Io spero che non cadrei malato no perché se io vorrei cadere malato no che mi accorresse il sangue me lo facessi darà da lui perché è un sangue nobile e degno di essere amato. E' un uomo di alto livello nel bene affetto non lo so. Cutolo era un uomo era e ma quando io lo conobbi era un uomo che aveva un suo fascino sinistro ma aveva un suo fascino. Il mio primo ed unico incontro con lui iniziò con un fender de non reservoir da parte sua e mi disse ho ricevuto una lettera da un mio associato che mi dice che voi chiedo un fedente che con voi è meglio non parlare. Ed io stavo riprendendo le mie carte per andarmene quando lui dice però se vuole restare come opera caritativa vi faccio vedere la mia produzione letteraria. E io dissi vabbè sono qua non perdo niente. Iniziamo a parlare e poi uscì dal carcere a mezzanotte con 18 pagine di verbale. Si chiama Dottaviano e questo è il castello Medicio. Questo è stato il quartier generale di Cutolo della sua famiglia dei Cutoliani. Per la verità Don Raffaele qui ha vissuto soltanto pochi mesi invece c'è stata per tanto tempo la sorella Rosetta e qui era un continuo via vai di persone e anche di politici che venivano a chiedere i voti. Don Raffaele era fatto così. Gli piaceva ostentare il suo potere e la sua ricchezza. Uno come lui non era tipo che potesse vivere in una casa normale per quanto comoda e magari con i rubinetti d'oro. No per Don Raffaele Cutolo o professore il fondatore della NCO, la nuova camorra organizzata, da 50 anni seppellito nelle patrie galere ci voleva qualcosa di più grande e di più sontuoso, un castello che poi questo castello a volerla dire tutta rappresentava la sua rivalsa sociale. La sua rivincita sulla vita che lo aveva visto nascere figlio di un umile agricoltore di Ottaviano che proprio ai piedi di quel castello coltivava un pezzetto di terra agli albori dell'immediato dopoguerra. E Raffaele accompagnava il padre e guardava il castello maestoso irraggiungibile e quella castellana che si atteggiava a padrona del vapore. Lo voleva quel castello e quando divenne potente lo comprò per 280 milioni di lire nel 1980 più o meno un terzo del valore reale dell'intera nato. In buona sostanza Raffaele Cutolo fece una di quelle proposte che non si possono rifiutare all'ultima proprietaria, la nobile donna Maria Capece Minuto e coronò così il suo sogno da ragazzo. Dalle falde della bocca più antica del Vesuvio, Don Raffae sognava di conquistare non solo Napoli ma tutta la Campania. La nascita della sua organizzazione, la NCO, segnerà in modo indelebile la storia moderna della Camorra. E non certo in me. La nuova Camorra organizzata che ha la grande responsabilità di essere stato il tarlo che ha veramente inquinato nei decenni successivi quella che è stata la vita di una regione, nasce, si costituisce oltre che nella contrapposizione ai siciliani proprio nella pretesa di ottenere una tangente sulle casse di sigarette che i siciliani scaricavano nella zona di San Giovanni a Teduccio. Dall'avvento di Cutolo a metà degli anni 70 fino ai primi anni 80 a Napoli e provincia ma in tutta la campania si conteranno più di 800 morti ammazzati nella guerra tra cutoliani ed esponenti della nuova famiglia. Un cartello di clan camorristi storici appoggiati da Cosa Nostra Siciliana che si opponeva alle mire espansionistiche del professore. Ci fu un anno nell'82 dove si superarono i 250 morti dovuti alla faida tra Cutolo e la nuova famiglia insomma. A Ottaviano però ci fu una grossa parte, penso che siamo sull'ordine di una quarantina. Però i clan... 91 cittadini? Caddero in tanti ad Ottaviano, compresi i parenti del boss. In questa piazza si è conclusa l'epopea dei cutoliani. In questo posto dove adesso c'è la macelleria, prima c'era una sala da barba e qui dentro venne ucciso Salvatore Iacone. Chi era Salvatore Iacone? Era il suocero di Raffaele Cutolo. Lo uccisero proprio mentre si stava facendo fare la barba. Ma la grande ferita di Cutolo Uomo fu l'uccisione del suo primo genito Roberto, raggiunto e ucciso davanti ad un bar di tradate vicino a Varese con dieci colpi di pistola da killer calabresi su richiesta della nuova famiglia, gli avversari di Cutolo. Questo è suo figlio? Sì, mio figlio. Buongiorno. Che cosa, che avvenire augura suo figlio, signor Cutolo? Quello che augura tutti i pazzi onesti, comunque. Già lo devono vedere qui dentro, in recente a me. Quando lo uccisero, Roberto aveva 28 anni e 27.000 lire in tasca. Non se la passava bene e voleva dare un taglio al passato e a quel cognome di piombo. I soldi glieli mandava sua madre, la prima moglie di Cutolo, Filomena Ligori. È stato un sfregio un padre, però hanno colpito a me il padre perché io me l'ho cresciuto. Io ci mandavo un menzino, il mio permesso. Io aggiungerò dal mio figlio e basta. Un altro colpo per Don Raffaele fu l'eliminazione del suo amico e braccio destro fidatissimo, Vincenzo Casillo, saltato in aria nella sua macchina nei pressi di Forte Boccea a Roma, a due passi dalla sede dei servizi segreti. Casillo aveva con sé un tesserino dei servizi e aveva partecipato alle trattative per la liberazione dell'assessore regionale Ciro Cirillo e dalla titante entrava e usciva tranquillamente dalle carceri italiane. All'esecuzione di Casillo, detto onirone, assistette la sua fidanzata Giovanna Matarazzo, una ballerina di night club conosciuta col nome d'arte di pesca vellutata. La donna, qualche tempo dopo, venne sequestrata, uccisa e fatta a pezzi. Al processo per l'uccisione di Casillo, Don Raffaele, che è imputato, parla così del suo amico. Sì, Presidente, desidero dirlo, io sono in carcere da 26 anni, ultimamente ho preso qualche 10 al gasto, quindi la mia vita deve finire in carcere. Però non desidero pagare, per la morte dell'amico è mio più carico. Ripeto, tutti mi hanno detto che è stato un incidente, se poi è un omicidio. Dovresti domandare a un certo apparato dello Stato, che gli ha rilasciato la testa dei servizi segreti, benché la titante entrava in tutte le carceri italiane. Però tutti mi hanno detto che è stato un incidente. Adoro il nome del popolo italiano, nel corte d'assisi di Roma, visto l'articolo 479 del codice di procedura penale, assolve Cutolo Raffaele, Cutolo Rosette e Puga Giuseppe dall'imputazione loro scritta per non aver commesso il fatto. L'udienza è tolta. Comunque sono state in casa. Avvocato, comunque è una grande, grande... Grazie a voi, grazie veramente. Grazie a te. Grazie a te. La ringrazio, la ringrazio a tutti. La ringrazio, grazie. Avvocato, grande battaglia. Ha diventato partito. Ha diventato partito. Ha diventato partito, non ci dico. Ha diventato partito, ha diventato partito. Ha diventato partito, è la verità, è un grande contributo veramente. Ci vediamo che posso dire. Vabbè, per il tanto, sai come se mi chiamo? Mi sono chiesto. Il primo è una... Ha detto il maestro, dobbiamo fare la squadra. La squadra? Poi ci vediamo la cazzo. Eh, la posso. Caddero in tanti ad Ottaviano, camorristi e uomini delle istituzioni, come due onesti e battaglieri consiglieri comunali. Pasquale Cappuccio, socialista, ucciso nel 1978, e Mimmo Beneventano, assassinato da anni più tardi davanti casa. Io fui svegliata dalle grida di mia madre, perché stavo dormendo, e scesi qua e trovai il corpo di mio fratello, che per me era una roccia, per terra. Gli allentai la cravanta, pensando che non riuscisse a respirare, ma non c'era più niente da fare. Lui venne ucciso, morì qui, su questa strada. Sia Pasquale che Mimmo si opponevano in consiglio comunale e nelle piazze alla speculazione edilizia che la camorra cutoliana si apprestava a compiere in quella zona attorno al castello, in quello che oggi si chiama Parco del Vesuvio. Allora si voleva costruire dei centri residenziali, si parlava di centri sportivi e così via, questi territori e poi questi terreni che poi in realtà circondavano quello che era il castello comprato da Cutolo. Oggi il castello Medicio è tornato al comune amministrato da un sindaco avvocato penalista che ha reso fruibile a tutti questi spazi di bellezza. Ma per anni, come in una favola nera, il castello ha rappresentato il simbolo del potere camorrista. Adesso con queste chiavi vi porto in un altro luogo particolare. Queste erano le scuderie del palazzo, del palazzo nobiliare. Vediamo se riusciamo ad aprirlo perché non è semplicissimo. Eccoci, in queste che erano appunto, come vi dicevo, le scuderie, qui aspettavano le persone che dovevano parlare con Don Raffaele, ma erano decine, centinaia ogni giorno. E per ognuno di loro Don Raffaele aveva o una buona parola, o un posto di lavoro, o la 50.000 lire, come si diceva all'epoca. Ecco qua, aspettavano e poi venivano chiamati e arrivavano al cospetto di Don Raffaele, ma molto più spesso di sua sorella Rosetta. Mio fratello ha già seguito da 20 anni e sto sempre dietro il mio fratello. Mio fratello è abituato a fare sempre delle cose belle e tutt'ora fa cose belle. Lei mi diceva se uno deve chiedere un piacere a suo fratello. Chiede a mio fratello e mio fratello giustamente si rivolge a chi fa piacere. Come la stessa cosa, aiuta una signora che si aveva posto per un marito e mio fratello ha scritto a persone incaricate e ha fatto avere posto. Oggi Ottaviano è una cittadina come tante, dove il potere che un tempo fuori di Don Raffaele è passato nelle mani di altri. E la musica è sempre la stessa. I soldi si fanno controllando le piazze di spaccio e con il vecchio, caro e mai ripudiato Calcestruzzo. Oggi, soprattutto i Fabrocino, hanno subito già i diversi operazioni, proprio perché imponevano alle ditte del territorio e anche oltre i confini della provincia di Napoli un calcestruzzo creato da aziende loro in cui avevano ripulito soldi e che ovviamente non poteva essere di ottima fattura anche perché veniva ad un prezzo bassissimo rispetto alla concorrenza. L'ultima boccata di libertà, utilizzando il falso nome di Prisco Califano, era durata appena un anno dall'evasione dal manicomio criminale di Aversa nel 1978 con i picciotti che usarono la nitroglicerina per aprire una breccia nelle mura dell'istituto e liberare il loro boss fino all'arresto nel 1979 nei pressi di Salerno. Ma la carcerazione non l'ha piegato. Non so come abbia fatto e tuttora abbia la forza per resistere ad un isolamento che perdura da 35 anni. Cioè lui da 35 anni non vede nessuno in carcere, solo le guardie carcerate. Isolamento totale. La polizia penitenziaria. La polizia penitenziaria. Lei pensi che quando io andavo a trovarlo a Belluno mi si chiedeva di andare di domenica proprio perché nel tragitto dalla cella alla sala colloqui non incontrasse nessuno. Invece durante la settimana magari poteva incrociare uno sguardo con qualcuno. Un totale isolamento. Un totale isolamento. Dal 1982. Quanti ergastoli è stato condannato? 14 se non ricordo male. 14 ergastoli? 14 ergastoli. Un record man, credo. Quasi come Totò Rina più o meno siamo lì. Credo di sì, ma ci tengo anche a precisare che in decine e decine di processi è stato assolto. Sì, certo. Il carcere è stato il suo regno negli anni Ottanta. In carcere fondò la nuova camorra organizzata affidiando i deteniti. Dal carcere ordinò delitti e vendette e gestì gli affari miliardari del terremoto in Irpinia. In carcere decideva chi doveva essere il sindaco di Ottaviano. E invece fece uccidere quello di Pagani, Marcello Torre, dando seguito alla stagione dei delitti politici che era stata inaugurata a Palermo con l'omicidio di Persanti Mattarella. A me non è stato mai camorra. A me è un ideale di vita, la ripeto. Poi la camorra, l'antranca della mafia e tutta un'altra cosa. Ma la mafia sta a Roma. La camorra sta a Roma. La vera camorra sta a Roma. In carcere sposò l'attuale moglie, immacolata Iacone. In carcere ha concepito tramite il prelievo del liquido seminale la sua secondogenita. Non fu semplice. Infatti l'autorizzazione al prelievo comportò l'autorizzazione all'ingresso in carcere di un chirurgo, di un urologo, di un personale medico. Che io accompagnai al carcere di Belluno e poi questo personale autorizzato dal direttore del carcere, erano tre medici, procedetero al prelievo, così come da autorizzazione. Poi si uscì dal carcere e c'era la signora immacolata che attendeva con delle bombole di idrogeno per congelare il liquido, così come era stato prelevato, bombole di idrogeno che per ovvi motivi di sicurezza non potevano fare ingresso all'interno del carcere. È una cosa bellissima. Per una donna avere un figlio è una cosa stupenda. E anche per chi no, avere mio marito vicino. E sempre in carcere, don Raffaele ricevette la visita dello Stato. Era l'aprile del 1981 e uomini dei servizi segreti e politici varcarono il portone del carcere di Ascoli Piceno per chiedergli un favore. Adoperarsi per ottenere la liberazione dell'assessore democristiano Ciro Cirillo che era stato sequestrato dalle Brigate Rosse a Torre del Greco. Cirillo venne liberato dietro il pagamento di un riscatto ma Cutolo non ottenne le contropartite che si attendeva. Anzi, per tutta risposta, lo Stato lo spedì nel supercarcere della Sinara che venne riaperto per lui e dove rimase a lungo l'unico detenuto. Però gli uomini come me sono condannati a non cambiare comunque perché mi tengono sempre in queste condizioni. Sono l'unico detenuto in Italia. Non da diretti il 41b, stavano nello stesso a Passeggi con Magni. Io sono totalmente isolato dal 19 febbraio del 1982. Da quel momento il silenzio ha parlato per lui. 50 anni di carcere senza mai dire una parola significativa. Un sussulto ogni tanto che assomiglia tanto ad un divertimento. Se parlassi io cadrebbe l'attuale Parlamento. Potrei dire delle cose sul sequestro e l'uccisione di Aldo Moro. Ha detto ultimamente. Dichiarazioni già rese alcuni anni fa al PM, oggi sostituto procuratore generale, Otello Lupacchini. Cutolo sosteneva di essere stato incaricato dalla democrazia cristiana tramite un suo avvocato di individuare la prigione di Moro. E l'aveva individuata? La prigione venne individuata e chi di dovere venne informato di dove potesse essere la prigione di Moro intendendosi per tale il covo di via Montalcini. Dopodiché però, data questa notizia, raccontò Cutolo e nessuno mi disse più nulla. Anzi, un mio associato, in questo caso si trattava di Casillo, mi disse Don Raffaele, meglio che ne stiamo fuori da questa vicenda perché è molto pericolosa e liberare Moro non interessa a nessuno. Ogni volta si ha la sensazione che Don Raffaele giochi come il gatto con il topo ma che in realtà non abbia alcuna intenzione di pentirsi. Arrivare a questo punto non si pentirà più non penso che ne abbia alcuna intenzione di farlo. È legato purtroppo a quel vecchio stile camorristico dove il pentimento era un disonore enorme. Coloro che intendono collaborare con la giustizia e ne hanno ovviamente ampia facoltà lo fanno perché intendono patteggiare con lo Stato o benefici penitenziari enormi. Cutolo non ha mai scelto questa strada non ha scelto mai la strada del compromesso. La prigione ha cambiato qualcosa in lei? Io sono sempre lo stesso sono sempre le stesse idee semmai io devo dire che se fosse in Italia si stava al meglio come si stava peggio. Ma di certo Cutolo di cose ne sa tante e le sue dichiarazioni potrebbero ancora far paura a qualcuno. Non so se ci siano molti che possano ancora aver paura di quello che lui sia in grado o possa ancora raccontare. Indubbiamente a mio avviso se ce ne fossero ancora rischierebbe molto con queste dichiarazioni se effettivamente avesse qualcosa da raccontare ancora. Ma Don Raffaele fu anche il primo a sperimentare il fascino che la camorra e i suoi riti esercitano sui giovani e sui giovanissimi. Ne affidò tantissimi e ne morirono tantissimi altrettanti vennero arrestati. E verrebbe da dire che la storia si ripete se 40 anni dopo troviamo ancora giovanissimi a fronteggiarsi per le strade di alcune zone di Napoli con le armi in pugno. Da piccoli come questo nel cuore di Forcella uno dei quartieri difficili di Napoli partono le cosiddette paranze queste bande di ragazzini che sparano per strada. I ragazzini sono sempre stati attratti dalla camorra fin dai tempi di Cutolo e dei suoi avversari e ne morirono tanti anche negli anni 80 e negli anni 90. Il questore della città Guido Marino è uno sbirro di grande esperienza e coordina una squadra dalle volanti alla mobile estremamente affiatata e composta da ottimi professionisti. Marino per i suoi trascorsi conosce bene la mafia e i mafiosi quello che accade oggi a Napoli negli anni 80 dice sarebbe stato impensato. Io mi ricordo un mafioso che abbia fatto lo sceriffo in mezzo alla strada per terrorizzare la gente o per marcare il territorio o per imporre la sua legge con il risultato di attirare in quel territorio più polizia più carabinieri da ultimo più soldati e quindi con qualche difficoltà in più a muoversi. Fino a qualche anno fa noi siamo stati abituati a confrontarci con una camorra che aveva il senso delle cose cioè sapeva che alzare la tensione il livello di violenza per le strade determinava delle conseguenze a reazione dello Stato certamente e quindi era in grado di riflettere e di astenersi dal commetterlo oggi tutta questa capacità di riflessione è venuta completamente meno e ci troviamo di fronte a soggetti che sono imprevedibili caratterizzati da una straordinaria violenza e quindi particolarmente pericolosi per la collettività sono sganciate dalle connessioni politiche non c'è alcun rapporto però c'è un grande hanno questi ragazzi hanno un grande target di riferimento diverso dalla politica che a mio giudizio è quello decisivo più della politica è il mondo imprenditoriale è il mondo imprenditoriale quando questi ragazzi vanno a chiedere il pizzo in quel momento ricevono la legittimazione dell'operatore economico la legittimazione del commerciante la legittimazione dell'imprenditore in quel momento dell'acquiescenza dell'operatore economico il loro radicamento diventa una realtà e non sono più gang ma sono clan ragazzini in azione non solo nelle strade di Napoli qui siamo ad Acerra in piazza Falcone e Borsellino e questa è la scuola media Gaetano Caporale qui pochi giorni fa non più di una settimana fa due ragazzi a bordo di un motorino con i mitra in pugno hanno seminato il terrore davanti alla scuola forse cercavano di entrare per sequestrare la figlia di un boss che avevano tentato di uccidere non c'erano riusciti fatto sta che i genitori e alunni sono rimasti a lungo barricati qua dentro i nostri collaboratori non volevano farci uscire per paura ma quindi come erano le motorine con la gara con i mitra e il passamontagna con i mitra e il passamontagna erano con i mitra e con il costo quanti erano due due su un motorino due su un motorino ripeto per tutti zona forcella zona quartieri zona monte calvare abbiamo dovuto cercare una torota iq non abbiamo il colore la tarda a bordo vi dovrebbe essere una donna in stato interessante ripeto donne in stato interessante probabilmente a nome di valentina giuliano ripeto a nome di valentina giuliano appartenente alla famiglia giuliano di forcella la quale porta trasporta armi da forcella zona quartieri per consegnarle successivamente a personaggi malavidosi di forcella i quali poi dovrebbero esplodere dei colpi d'arma da fuoco per atto intimidatorio nota per tutti camici bianchi silenzio e concentrazione ecco la centrale operativa della polizia di stato a napoli la segnalazione che avete appena sentito riguarda una donna esponente del clan giuliano di forcella che starebbe trasportando delle armi verso i quartieri spagnoli probabilmente per una rappresaglia Michele Spina capo delle volanti per anni commissario a secundigliano e a scampia ci dice che la segnalazione dell'auto è arrivata con una telefonata anonima e come tale va presa con le pinze andiamo a forcella per capirne di più si ho ricevuto ma com'è quella situazione interrogativa positiva? ora noi stiamo andando a forcella a controllare quella situazione che abbiamo sentito giusto in sala operativa che mi sembra abbastanza un allarme insomma perché se c'è una macchina con te se è vero a posire si ma spesso vengono fatte comunicazioni anonime di questo tipo che vanno tutte verificate ma non necessariamente sono poi dei vetriere per i vetriere ciao 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 come va? gli abbiamo diramato le ricerche le pattuglie hanno cercato ci sono anche le cose e stanno ancora cercando ma fino ad ora non c'è traccia di questa macchina non è successo non l'abbiamo trovata no la segnalazione era verissima l'auto viene ritrovata due giorni dopo con diversi colpi di pistola sulla carrozzeria ma chi sono questi giovani protagonisti di paranza estese come vengono definiti questi raid a mano armata quattro imbecilli incapaci anche di dire proprio nome e cognome questo è il punto sì perché poi quando ce li avete davanti vi rendete conto che sono oggettivamente niente sono decerebrati completamente cioè quanto la droga incide in questo parecchio parecchio incide la droga e chiaramente incide poi un sistema normativo che francamente meriterebbe qualche riflessione approfondita ma la solita storia voi li mettete in carcere dopo due settimane dopo due giorni sono fuori questo è il tema ma nel caso di minorenni avviene anche di peggio perché abbiamo a che fare con un sistema normativo che tutela secondo me anche in misura eccessiva il minorenne e fin lì ci può anche stare ma libera da ogni responsabilità proprio svincola da ogni da ogni onere il genitore di quel minorenne cioè non gli chiede conto e ragione di nulla quindi che facciamo li togliamo questi ragazzini i genitori o costingiamo i genitori a occuparsene ma come gli abbiamo gli strumenti legislativi per fare questo dal mio punto di vista qualche al genitore che è manifestamente incapace o indegno di fare il genitore il figlio va tolto secondo me io riesco ad andare avanti proprio perché non mi porto nessun senso di colpa perché i miei figli li adoro e l'ho sempre guidato nella via giusta se un ragazzo non va a scuola quindi verrà denunciato se un papà non sta in grado quindi ci sono competenze altrove come l'assistenza sociale altre situazioni lui è uno degli ultimi venditori di sigarette per strada si chiama Salvatore e mi ricorda che ci siamo conosciuti oltre 20 anni fa in casa di Loigino Giuliano durante un'intervista all'allora boss di Forcella lui all'epoca era poco più che un bambino come quelli che oggi sparano per le strade ma lui non ha mai ucciso ha commesso altri reati ed ha pagato il suo debito con la giustizia con 14 anni di galera sulla questione figli risponde come non ti aspetti come io sono mio padre per esempio con i miei figli per me anche i genitori sono fatti così perché si vede a mio figlio una mattina che scena e porta 1000 euro a casa io dico vicino a mio figlio dove la veste questa 1000 euro se mio figlio non dico niente domani porto 2000 euro e mio figlio è un quanto è sciotto certo quindi dici tu dipende molto dai genitori dalle famiglie sì perché se mio figlio fa una cosa io non vengo a sapere mio figlio e c'è il mio figlio come faccia ti viene a ritirare di dire perché non deve soffrire come ho sofferto io intervenire sull'aspetto delicatissimo della patria potestà rischierebbe addirittura di essere un boomerang ci ha insegnato Sciascia e per fortuna che ce lo ha insegnato che la mafia si vince sul terreno del diritto bisogna oppore la forza del diritto tu non puoi guai se dai la sensazione di essere come loro se dai questa sensazione alimenti il consenso sociale della mafia cerchiamo di metterli però in condizione di andarci a scuola e non dover lavorare per doversi mantenere a non dover vivere in un quartiere che scuola non ne ha a non dover fare molti chilometri per andare a scuola a non andare in scuola fatiscenti con un'edilizia scolastica che ha i minimi storici cerchiamo di intervenire su questo e secondo me sarà l'ora che la città potrà mettersi al pari dell'altra parte della città che invece registra un boom turistico straordinario che invece registra il massimo delle presenze dall'estero in ogni in ogni festività perché anche questo esiste tutto vero ma è altrettanto vero che la collaborazione dei cittadini con le forze dell'ordine Anna è spesso deficitaria in un caso di omicidio il primo sforzo investigativo è finalizzato ad individuare un testimone non l'autore dell'omicidio e tutto questo è deprimente ma lo spieghiamo perché vuol dire cioè non c'è mai un testimone non c'è mai un testimone semplicemente erano in due ora ne in tre esattamente esattamente questo cioè a dire stiamo parlando dell'inizio di un'indagine cioè erano in moto piuttosto che erano in macchina erano in due piuttosto che erano in tre questo tipo di contributo che mi sembra davvero il minimo sindacale da parte di un cittadino che pretende di essere tale e insomma io credo che bisognerebbe aspettarselo da una città che ha ampiamente dimostrato di avere mille risorse e di non avere come un obiettivo da visita questi quattro rifiuti umani che vanno sparando ci sono alcuni fatti più gravi su cui non si transige e là è giusto denunciare assolutamente dipendentemente dal contesto tu denunceresti? personalmente sì io penso che denuncerei però non mi sono mai trovato in una situazione del genere quindi adesso magari posso dire di sì poi trovandomi potrei cambiare opinione però sì comunque penso denuncerei sostengo che l'avversione in un certo senso viscerale che c'è in ampi settori della città non necessariamente settori camoristici anche di settori di indifferenti di persone per bene nei confronti delle forze dell'ordine costituisca una vera e propria patologia quindi noi rappresentiamo Napoli in un certo modo però poi la gente continua a venire continua a venire a visitare questa città ad apprezzarne le bellezze la cultura è una contraddizione che cosa? o sono tutti pazzi autolizionisti che vanno incontro a morte certa per rapine scippi ferimenti o cose del genere oppure vedono qualcosa che i media spesso volentieri non vogliono far vedere siamo davanti al consiglio regionale della campagna e come vedete la facciata principale del palazzo ma anche quelle laterali sono costellate di fotografie delle vittime innocenti della camorra sono decine e decine e anche nell'anno appena trascorso nel 2015 sono morti dei giovanissimi tutto questo viene fatto per non dimenticare è stato ucciso per sbaglio per una pallotta lavaganda per diciamo per questi ride che non si sanno cosa vogliono questi sciagalli vogliono intimorire i quartieri vogliono intimorire la città non si può perdere un figlio per rimanere un'ora in più in piazza Antonio Cesarano è il papà di Gennaro detto Jenny 17 anni e tutta la vita davanti l'hanno ucciso in piazza della sanità il 6 settembre dello scorso anno colpito da pallotto le esplose da quelle che vengono chiamate le stese gruppi di giovani che a bordo di grossi scooter sparano all'impazzata per affermare la propria supremazia criminale in questo o in quel quartiere l'unica colpa di Jenny è stata quella di essersi attardato in una calda serata di settembre a chiacchierare con gli amici nella panchina di fronte casa non lo voglio accettare pure questo posto per me è un ricordo tremendo perché mio figlio si è cresciuto in piazza stava a 100 metri di casa mia non faceva parte dei minori a rischio quasi parlavo che mio figlio andava a scuola era un ragazzo seguito e noi non ci diamo non ci diamo pace noi abbiamo perso tutta la nostra vita non una metà tutta la nostra vita Jenny è stato ucciso in settembre ed era una promessa del calcio come Davide Bifolco ucciso anche lui a settembre ma dell'anno precedente da un colpo esploso dalla pistola d'ordinanza di un carabiniere al termine di un inseguimento sono uscita con i documenti sono andata sul posto e ho trovato mio figlio a terra morto è un carabiniere ma che l'avete fatto perché poi mi sono ginocchiata e scuola Davide Davide però era capito subito tutto al militare la procura di Napoli ha contestato l'omicidio colposo il processo si è concluso 48 ore fa ed ha visto la condanna a 4 anni e 4 mesi del carabiniere che ha ucciso Davide non si tratta del massimo della pena per questo tipo di reato per i genitori di Davide si trattò di una vera e propria esecuzione se tu cadi da un motorino la prima cosa che fai che fai istintivamente cerchi di alzare per vedere che ti faccio allora il bambino stava così vedi quando si è alzato stava così così in questa posizione quando ha fatto così evidentemente il ginocchio che faceva male non li vissà così è rimasto una botta ma che ha fatto di male ma che ha fatto di male c'è questo posto di blocchi inciampati ero latitando sul motorino cioè il mio figlio non guidava il motorino non era il suo stava in mezzo come dicevano in via radio equabile in mezzo in mezzo quello ammazzato comunque ammazzato quello di mezzo che era mio figlio il dolore identico di queste due famiglie ha prodotto frutti isperati con la nascita di due associazioni per volere dei genitori il popolo in cammino alla sanità e Davide vive a Soccavo ai campi fregrei ma Napoli si sa si mischia tutto a prescindere nel bene e nel male e infatti in questa processione dedicata alla Madonna dell'Arco nel quartiere di San Lorenzo Vicaria accanto alle effigie dei Santi sfilano a pagamento anche i volti in smoking dei cari estinti di rispetto del quartiere da sempre è così è una tradizione ci dicono e noi ci crediamo crediamo soprattutto che per Napoli e per la sua gente sia